Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati ha voluto dare un premio e darlo a una persona speciale? Sì, una persona speciale sotto ogni punti di vista, soprattutto secondo me proprio per quello che ha detto lui poc'anzi, il fatto di comunque essere riuscito ad affrontare veramente, come ha detto lui, questa non è appunto né disabilità né handicap, lui l'ha chiamato appunto deficit e averlo affrontato e forse accolto con tranquillità, serenità e normalità lo rende ancora più speciale. Il Comitato si interessa non solo delle donne dunque, ma guarda a chi riesce a dare un esempio, a una testimonianza come quella dell'Avvocato. Certamente, allora questo per quanto concerne questo premio sì, che noi andiamo ormai a dare come di consueto ogni anno. Anche quest'anno non abbiamo voluto comunque privarci di questo evento che alla fine diventa una festa, diventa una festa perché è un riconoscimento comunque speciale e riguarda persone speciali, perché chi più chi meno comunque a chiunque venga dato questo premio deve essersi distinto nel nostro ambito, quindi nell'ambito della professione forense, che poi possa essere un avvocato, possa essere un magistrato o comunque semplicemente una persona che opera nell'ambito della nostra professione, comunque deve essere una persona che si è distinta per particolari azioni o per particolari situazioni. Sono stato premiato dal Comitato Pari Opportunità in quanto loro hanno ritenuto che io, pur essendo portatore di un deficit fisico, abbia comunque superato brillantemente quest'handicap, continuando a lavorare tranquillamente e quindi mi hanno visto un po' come un esempio riguardo il fatto che con intelligenza e personalità si possono superare alcuni deficit. Lei è una gran bella testimonianza per tutti quanti, perché siamo abituati a lamentarci quando viviamo un problema, mentre invece lei ha anche spiegato la differenza che c'è tra deficit ed handicap. Sì, in buona sostanza il deficit è quello che ti manca. L'handicap è qualcosa di ambientale, di collegato alla persona, perché io ho la patente e guido, ma come ho detto prima ci sono delle persone che pur avendo la patente oppure pur potendo guidare non lo fanno perché hanno paura, per cui hanno un handicap. Quindi sostanzialmente la gara nel mio caso è stata quella di cercare di ridurre il più possibile l'handicap nonostante la presenza di un deficit. Questo è stato possibile chiaramente perché faccio un lavoro intellettuale, perché se facevo il pianista non era possibile, è stato possibile anche grazie all'empatia dei colleghi, a quello che noi chiamiamo rapporto di colleganza, perché il nostro lavoro è un lavoro che richiede dedizione, impegno, e tu in un giorno puoi fare un certo numero di cose, per cui con un deficit chiaramente ne farai di meno. Questo credo sia ben chiaro, soprattutto al comitato pari opportunità, proprio perché loro occupandosi della pari opportunità anche per quanto riguarda le donne, sanno bene che fare questo lavoro pur essendo mamma e moglie non è la stessa cosa che farlo senza una famiglia sulle spalle.